Nenokune 2 capitolo 6D proseguiamo che rimane un piano più il boss c'è l'ultimo piano per trovare l'ultimo indizio, poi penso ci sia il boss, non so ancora quanto manca però, andiamo Ah, per me ho visto l'articolo ok ok non lo so c'era quel tipo dorato non so se è scappato non so ora c'è un altro piano di enigmi però è l'ultimo ok il più il più casinoso la solita storia non funziona cerchiamo l'apertura qui questa è la caldaia no non è questa la caldaia non è questa di qua non era nemmeno di qua verano 16 ok ops 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 si va da qualche altra parte ok è qui guarda allora la cosa no aspetta che no non lo so dov'è se trovo prima il posto è meglio da qui si vede è firmato io te le vado di sotto qui è più complicato vado a uccidere nemici c'è un tempo qui funziona diversamente tutti e tre vanno eccesso sì un grande interruttore cerchiamo di interruttori senza altro uno è anche non lo so dov'è va esplorato questo e uno è questo e uno è questo però la cosa è lunga ho risolto poco restano due interruttori uno è da qui prendiamo anche queste cose gradite oh la crema d'angelo poi vediamo da qui se ci sono interruttori caldaia oh serviva anche questo dopo di che ho messo in moto la cosa stramacchinosa il secondo è centrale lo vedo il terzo non da qui lo vecco no che non lo vecco ora non ha senso andare lì da qui i nemici almeno credo eh non vedo niente allora qui 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 credo difendevano qualcosa di importante giù non lo so per ora non vedo ecco qui qualcosa succede qui qualcosa succede qui aspetto ad andarci perché a parte lo scrigno qui è spento qui è spento ciotola non mi interessa un'altra caldaia un'altra caldaia oh l'interruttore guarda a questo punto sì ne manca uno però anche se accendo tutto non so ancora vabbè 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 dici fino a qui dice fino a qui è fatto bene fino a qui ti faccio scendere ecco ciò questo non l'avevo ancora toccato penso che lo avevo toccato sì lo avevo toccato sì lo avevo toccato sì allora giù finché non vado non vedo rifaccio questo giro ma la caldaia è presto qui ho già acceso il caldaia la caldaia basta esatto no eh non mi manda così no ti dici c'è un altro modo no c'è un altro modo inutile riandare le allora e tanto dovevo andare anche qua giù prima o poi un attimo un attimo che ci fanno male quindi vio là dove sono perché vio là no c'è la varia cosa non Grazie a tutti E' lui che fa questo lavoro nonostante ho attivato Quella roba viola non mi è partita I soldori qua sotto Oh mi sono sbagliato Ho ritirato due volte la cura No questa è troppa vita Ci vuole estremamente suzio I viola mi hanno topato Qui ci vuole estremamente suzio Estremamente suzio E' tre Questa ci vuole scusa Mi ho sbagliato un tasto un fottuto tasto Questi viola mi hanno swiffato Si prendevano questi Guarda li vagevano Li ho attivati e non so partire Questa c'è tanta vita però C'è capire che se esorou dentro Li ho attivati E' buono E' ormai si è vinto E' ormai si è vinto Di dal campo proprio Ma non c'entra niente tra i lacrime d'angelo poi le ricompro non c'è problema c'era uno sgrigno che io volevo però trovare la strada allora qui non c'era niente basta saperlo qui ingranaggio più basso no che non sale anche se non ci andavo era lo stesso mi manca la strada più che altro la chiave non posso ho attivato ho attivato aspetta che questo gira ancora però si gira ancora ma anche giro guarda lo stesso ecco dai mi manca anche qui poi ho girato tutto e magari c'era qualcosa ho girato tutto qui non c'era niente. Ora, Pitch, qui prima ci arrivavo di sopra ti dice, ti ci porta dopo, qui non ce la fai, muovi di là, qui ci salti dopo, non ci vai assolutamente, andiamo a vedere quest'altro oro che ho attivato, che, no, no, qui facevo meglio prima ti dice, ora ci vai, per mandarti qui Cristo, eh sì perché manca il terzo, ma Cristo c'era una caldaia qui, eh ora se non l'ho vista, e ora mi torna, ti manda qui, ok, fai la caldaia, ora funziona, ora ci vai, sei pronto? Ci vai, ecco, ora hai attivato questo che ti serve, ora vai tranquillo che funziona, c'è tutto il necessario, oh, vabbè, ora passi però, ora passi però, ora si può fare la cosa che... prendi quelle piattaforme che ora sono abbordabili a piedi, allora tre lacrime della Dea e ho attivato nemmeno in un boss, li attivo così tante, ecco ora ti dà accesso qui, ora puoi saltare, per prendere questo non cadi di sotto, non ci dovevi andare, prendi questo, è un bel martello, per lei, lo metto che questa ascia non è che mi convince tanto, no, però, bella storia, bello questo, questo, e questo, pazienza per l'ascia, fa vedere quant'è la gravità, eh, due dai, poi le ricompro, compagni, PV, non so qual è meglio dei due, vabbè, poi ricompro, allora qui troviamo la strada, venivo da qui, il gioco è fatto, questo è l'ultimo, perfetto, 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 e tre, dove era il problema? è che non avevo trovato la seconda caldaia, qui c'è la porta, punto, non era tanto rognoso, non era tanto rognoso, ti permette di saltare, e la porta qua, a questo punto è tre ore che brilli, fa così, pietra acciaio, poi vai, hai visto, trovarsi qui, quindi appena vedo un pallino rosso, per brillare, cioè questo, lo prendo, ultimo trama della storia, vediamo cosa succede, l'ultimo molite, 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 c'è, Grazie a tutti Ok, ora su c'è il boss che mi aspetta Che non sarà una passeggiata Ok E fino a qui ci siamo Sì, delle introsi sono arrivati Quasi fino a te E ora Senza troppo il tartaro buone Lo scagli a me Ed ho Due lacrime della dea Più altre due Ho un altro Ma è molita Ok, potremmo trovarne un altro Però Qui niente Sprosegue Ci dà il teleport Perché qui ci puoi venire Anche per le missioni Secondarie Per reclutare C'è anche per Allora E va a livello 28 E qui succede altro Siamo addirittura Di boss Credo Qui c'è un monerite Particolare Un memolite E questo È un po' È diverso Si va Di qua Si mette nel Vai Ecco ci vuoi L'ultimo Ostacolo L'ho lasciante L'ho levata Dal gruppo Per ora Dai C'è un po' Di battaglia Vai Questo è un Sottoboss Perché dopo c'è Quell'altro Ovviamente Ma anche questo Mi sa che Non scherza A questo punto Devo tenere lei Perché Grazie alla cura Ormai non ho niente Mi sono appena riposato Solo riposato Nella lapi Che mi ha assorbito Lui Nullus E' una viola Che lavoro fanno Non ha attirato Il viola Pure che viola L'hanno attivato Oh Eccolo qui il viola 1.800 E passa Oh Che è successo Successo è Fatto il furbo No No E basta Non Questa una sola Non lo so Ma veramente Mi resta con lei Eccolo Mi scherza Poi Stiamo lì dentro È forte Pettini anche te E qui ce l'ho 200, 200, madonna le botte anche qui dentro, è due Perché tutti e tre Non so qual'è meglio Oh vai, devi fare di più Evan Capisco Nessuno Qui a questo punto è una battaglia Che ci volevo Questo Scienza forte Se non campare Come si fa In senso forte tutto lui No però c'ho pure Diciamo che l'ho No Attira sta roba Capisco perché non ho più Magia, non ho più Qui è un casino Stavo forte Deveva sprecare roba Ok Sono abbastanza carichi Non c'è problema Non c'è problema Non c'è problema Oh mi prende in giro Ma mi prende in giro Pimbi Questo è tutto e tre Ho visto uno Beh non lo so Insomma allora Questo Quattro su quattro Quattro su quattro Ragazzi Quattro su quattro Questa questa pistolina No ma era forte A nulla Era invincibile Ma la battelo un questo. Sì, vabbè, magari mi viola, non mi fanno male. Che cosa strana, mi ha colpito quattro volte di prepotenza. Ma guarda, ti rendi conto? Qui c'ho il globo dorato, ce l'ha con me. Sono invincibile, non ci ho fatto niente. Eh, ho capito. Boh, che pantaglia strana. Ho ottenuto qualcosa, poi vedrò che... Mamma mia, che ho il globo dorato. Ti prendeva, non ti faceva... rialza un perro fuori legge. Chi è? Non ti faceva rialzare, non ti faceva... qui. Qui non so che... non ti faceva rialzare. Qui. Fariamo un attimo di qua. Ho sprecato tante code. Non va bene. Una sola ce l'ho. Una sola. Qui ti ha ripienato, però. Oh dai. Qui è la resa dei conti. Il boss era forte. Ho sprecato più del dovuto. Anche perché da lontano lei lancia, però... Boh, non mi faceva muovere. C'era sempre di mira a me. E' inutile switchare ad Evan, che era a level... era a venti livelli sotto. E compagnia. E stare con suzio. qui la storia è ricostruita. Uno, due, dai, sono quattro. Si sono visti. Ok, devi gioisci. Dai, tanto ora ci scagli il monstro. Il quinto però è segreto, eh. Ce l'ha lei. si torna insieme lo stesso. Tanto c'è il boss. Eh, questo è l'ultimo. Questo è curioso. questo è più curioso. Ah, mi ricordo, eh. Lei c'è una gamba artificiale, si. è una gamba artificiale. Lei c'è una gamba artificiale. Lei c'è una gamba artificiale. Come va, è un minuto. Non c'è una gamba artificiale. Questa, questo è un senso. Ho il nostro corpo. Ho il mio creato. Grazie, Musaca. Io sono il presidente, ovviamente. Musaca, guarda questo! Sì. E questa è la storia di questa città, di lei e di lui. Ora c'è il boss, qualcosa. Lui ci darà anche... Lui ci costruirà anche l'aeronave, non subito. Però grazie a lui. Ok, qui c'è il tartarocone, vediamo. E vediamo. C'ho... Una potele finisce sola. Mi affido ad altro. Poi intanto ricompro. Allora, qui è la città che sembra sta crollando a pezzi. Un ingranaggio al sottosuolo che sdraia un pezzo di città. Poi... ci verrà a cercare. Che è? Vabbè, ci ripensiamo noi. Sparisce, stai dicendo, ricomparisce. Allora, sul tetraascensore c'è il boss. Però... Qui che è? Niente. E... no, per ora niente. Mi farà... rifugillare. Potresti prendere due cure per quel boss. Se non pazienza. Ok, si passa di lì. Ok. Ok, vediamo. Dobbiamo mettere l'energia in un punto. E dai, così facendo. Dai, andiamo però allo stesso. Bisogna andare. Allora... Va bene, va bene, siamo d'accordo. Ah... C'è un punto di energia. Non si passa, o se... Mi dà una stella... ... di salvazione. Ok. Ok. Vedete le porte. Vedete le porte. No, dai. Vediamo anche forse sto boss. Dai. Allora... Allora, lui forse ci dà una mano da qui. Calmiamo Tidus e il boss. Lui forse... Ehm... Eccolo qui l'ascensore. Oh! Vediamo stazione con l'Audi. C'è il... Un attimo che ti dice se vuoi... Un attimo... Un attimo... Un... Salvare. Se vuoi un attimo due cure in più. C'è questo. No, c'è questo. Ok. Ma non c'è il teleport. Ma se ne andiamo lo stesso. Ehh... 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 Sta porte. Sì, che ci si va. La voglia ce la fai. Fai così. No, 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 no. Sotto ancora. Ecco qua. Prendo due cose. Città. Andiamo. Lei che ci vuole. Vedete, ci manda. Vai in città. Mi compro. Corro due. La cremedea. Sia se servono o non servono. Poi in un attimo torno lassù perché ho speso anche troppo. Ho usato anche troppo in battaglie stupide. Allora... Quell'altro piano, guarda. Non è nemmeno qui. Non è nemmeno qui. Ce l'ho un. Eh... Ehi, questo è a livello il due. Oh, così salgo. No! Entrata di dove? Di qui scusa. È un clic. E qui c'è di tutto quello che vuoi. Qui c'è la cure. qua ce le augurei non cliccheri, sono al boss però insomma sono rifocillato, qui ce le augurei soldi ce l'ho questo diventa il lacrima d'angelo con 17.000 compro 5 e ancora ci siamo ora sono proprio a posto con un click torno qui e siamo al boss almeno ho 5 lacrima d'angelo ho 5 ributta ho 5 rianima in un attimo sono su eccoci qua al tetto tetto perfetto allora il tetto non puoi qui il tetto si va a piedi e qui ci fatti hanno messo il robottino apposta e qui c'è l'ingresso dov'era l'ingresso dov'era l'ingresso qui ok il robottino ha fatto il suo e il boss e qui c'è la battaglia perché se ne vai con cure se questo ti fa attacchi da 90% da magico è il 100% che fai almeno c'è il 5 finisci 5 vediamo beh si il tzudos è forte lo vedo sto consoso meglio allora c'è la una roba dorata attaccare la zampa 144 perché su si incassa bene però su si incassa bene però bella storia 4 dai miei ecco le mie le zampe qui guardate una roba qui lo stesso lo stesso allora la zampa è questa e la zampa è incriminata è una bella opzione vuole e dai ho già tutto la zampa è incriminata come è la solita sì ho questo partendo sì va bene se avessi eccoci qua ora la faccia ora al collo quello che è sì ciò fuori la storia ciò fuori viola tatti vale setto mano lei fa un danno cane ti dico lei fa un danno cane ok mi tira fuori quindi ti farai vedere che che dice coso non so che dice che dice che dice che attive questo qui è questa roba ah dai ora no ti dice lì fuori non vedo i scioffoli viola non vedo i scioffoli viola stanno bene gli altri due stanno bene ti erano appiazzati prima di scompigio questi le viola non sono pronte ah prendi spara eh vabbè poi vediamo sì qua capisco se pregatorio quanti sono di questi se sono finiti allora lascia le stacke dovevi dare le gambe dovevi dare lo stesso alle gambe pregatene però c'è una gamba che no più le uccide più ritorno allora sono le gambe sì o si scende a cristo sì sta scendendo chi se ne frega qui le navicelle che la cosa qui oh i bianchi ah ne devi prendere altri perché ti aiutano ti danno i bianchi ho capito si trasformano facciamo fuori bianchi quando ne hai tanti però non non le attivi per ora le vedo le bianchi le vedo le vado di comprare queste faremo 100% la magia non sai da dove stante ero anche sotto ora niente ti dice e ancora sono pochi però la borsa è attivato eccoli 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 e allora prendano per i prendano in giro tieni vado anche a te Evan ti dice questi bianchi ti dice attivami attiva le tue guarda voglio vedere che fanno però ah c'è tanti cannoni però oh vedi si ma ce la facevo anche io ce la facevo anche a mano beh Evan lascialo giù guarda ora si gli fa un bel po' di danno quelli basta ti piace la tua cura qui e poi picchi ok magari non hanno fatto una bella cosa e allora dai ho ributtato giù su anche loro vai vai questi due sono cannoni hanno fatto una bella cosa fare anche così e Evan ancora giù ti dice ce la devi fare non la mi vedo facciamo fuori aspettacoli cannoni oh ok come so ti dice devi liberare questi no sono 10 a battaglia eh vedi che vuol dire è una sola persona per ora apposto vuol dire dai gli ho tirato i come si chiamano li ho attivati ma gamma è over dai perché ero sotto tutto dai ero sotto tutto ero sotto boh sotto ora sotto no sotto tutto ho anche attivato quello bianco ho anche attivato quello bianco ma qui c'è anche oggettini si ho capito ma non è che l'ora 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 l'idai bene corpo a corpo funziona sta roba si dice meglio e cioè ma a parto fa un casino e poi e poi qui fa un po' di più stesso prendi sempre quella e incriminata allora c'è viola vede c'è viola e levano tanto il viola ci so più oh cristo vai qui sotto loro si vanno a curare hai capito vai ancora a curarti qui ci penso non lo so qui qui meglio non ci stai meglio non gli stai davanti qui ho quella pistolina non lo so vai a pistolina non capisco non mi ha detto questo beh adesso sono già pronti però stavolta il contrario di prima ce l'hai allora la spada ce l'hai vai botta ai danno questi però guarda è uno step poi oh bro e dopo le fai così dov'è il problema guarda ci metti 5 minuti prima ci hai messo 20 minuti di prima che è nativa guarda che uomo la spada no è viola è viola questi fanno un grande o cane questi vengono che ancora niente guarda quelli qui guarda quelli qui guarda che viola bomba si non era di vigera ah ok fai così attivato qualcuno non mi interessa dai ci è voluto pochissimo ci è voluto pochissimo e beh prima ho fatto il furbo però che avevo fatto le stesse cose comunque eccola qui il colpo di grazia con questi cannoni ehi vi è fatto dai quelli qui i cannoni boom 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 cristo e va fuori combattimento e va fuori combattimento e si rivela scusa come mai in penna questa difficoltà cosa dai vai quasi giù ma è lo stesso cristo cristo è morto è morto è morto è morto sappiamo anche il mostro dove dovevo colpire cristo è morto lo facciamo anche a mano una volta brilla la zampa poi si ferma poi non ancora no non ancora è bella questa l'attiva è morto ha ripreso tutta la vita no così non capisco dove cavolo allora lui è andato giù annullato annullato ora che dice non va bene niente perfetto tutti fuori combattimento perfetto perfetto tutti fuori combattimento ecco succede qualcosa sebbene una nuova strategia ho capito maia ma trova la soluzione ecco ora lui potere non ha scosso di questo tipo era questo era che lui era un drago glorato fortissimo sorpresona il piccoletto solarius era questo drago qui camuffato ma wow che diventerà E ora mi aiuta sull'ario? il solarius mi aiuta a fare questo guarda, per il resto non c'è, perfetto vai a rompere le scatele a quelle qui... qui , qui 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 qui... ignori te ne vai , te ne vai te ne vai , te ne vai te ne vai, te ne vai, te ne vai, vabbè, spari, e dai qui, e vai, metti minosi, te ne vai, te ne vai, ecco, è vero, come se alla fine mi fai cadere, quindi, no, io non c'entro niente, i scioffoli, il solare ha una scala che lecca del suolo, però, strada è una sola, e qui, è vero, su, andiamo, con pazienza, riprovi, perché lassù dai fulmini non mi lascia in pace, fino a qui ci siamo, ora, questo, lo vuole, lo vuole, qui, ok, era qui, è andato, è andato, era un po' da capire, qui sta un colpo solo, 100% da magica, steppe solo burra, scorsa da quelle salite dubbiose, l'hai visto, grazie, era un dragone, era una bestia, è finito l'incubo, è finito, qui è tornato tutta la pace, se est�e ma?' PHILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIizeraaaaa Sì 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 Ok, anche qua ci siamo. Stringo l'alleanza, capito, l'ho finito, è stata bella, è stata dura. C'era un... delle porte lì c'era, sì, perché posso tornare anche qui e un attimo lo vedo, però c'è filmato. Alla prossima. Ok, qui si è finita, ha detto, rimane solo Gatman, l'ultimo regno. Lui ci dà tutta l'assistenza possibile, in più Suzy viene con noi. E in più lui ci regalerà anche l'aeronave, se non subito a breve. Alla prossima. Bambino del sogno, capitolo concluso. Sì, sono sempre giusto, e non sono sempre un grande team, ma devo diventare una buona, ma non mi piace. Sì, ma io penso che sia una città che non mi piace così, ma io vorrei essere un personaggio dell'evan. E allora, come se si riuscite a fare l'evan, non mi piace. È così. Ecco qua, Evan, non mi piace che il loro si riuscite, non mi piace. Sì, praticamente lui già gli sta preannunciando che Roland il moro ora ci tradirà. Non è una cosa temporanea, è anche finta, però lo farà nella prossima parte. E qui allora, fine capitolo 6.